ciao a tutti e bentornati sul canale sotto la lampada oggi finalmente finisco il calendario dell'avvento yankee candle quindi mi mancano le ultime caselline da aprire e quindi procedo non mi ricordo più dove fosse arrivata ma adesso recupero vado dunque mi pare che mi ok si vado con il 22 casellino numero 22 votivo della christmas magic questa è molto buona l'ho già recensita lo scorso anno se non erro quindi vi lascio riferimento molto buona vado avanti lascio qui quindi ho fatto il 22 il 23 è una t light aiuto che è successo diamo sei un po egocentrico tu che ti fai vedere tutti i video eccoci bravo questa potrebbe essere la snowflake cookie io non sento più niente oddio non la sento minimamente vabbè facciamo finta che sia la snowflake cookie vado avanti quindi casellina 24 e dovrebbe essere l'ultima si sono un po triste e non poteva mancare per la casellina 24 quindi per la vigilia di natale la christmas eve in votivo buona questo l'ho già accesa ce l'ho in giara e l'accenderò ovviamente questa sera ecco qui e con questo è tutto vi auguro delle bellissime feste niente Logan è un po' diffidente non vuole stare in camera c'è uno che è egocentrico e l'altro no passate un buonissimo natale e questo credo che sia l'ultimo video prima del natale anche perché domani ci vediamo prestissimo con nuovi video e nuove recensioni ringrazio tantissimo stefano di pagi casalinghi per avermi supportato e sopportata per il brand yankee candle grazie buone feste ricordatevi il like e se non l'avete ancora fatto l'iscrizione al canale ciao ciao buone feste